Ciao a tutti, sono Margherita Remotti, attrice e insegnante di recitazione. Ad Action Academy sono la docente di recitazione specializzata nell'insegnamento della tecnica Meissner. La caratteristica fondamentale che un attore deve avere, secondo me, è la curiosità per l'esperienza umana che il personaggio vive sul set. Il fine ultimo di un attore è quello di veicolare una storia ed avere un effetto sul pubblico. La tecnica Meissner definisce la recitazione come the ability to live truthfully under a given set of imaginary circumstances, che tradotto vuol dire la capacità o abilità di vivere in maniera sincera, veritiera, onesta all'interno di una serie di circostanze immaginarie date. La scena, il copione, quindi andremo a riallenare la nostra capacità di vivere momento per momento con il partner, qualsiasi sia l'intensità dell'emozione che si crea in relazione all'altro. Recitare è fare, quindi ragazzi ci vediamo ad Action Academy. And action!